Una rivista che sia insieme ponte, frontiera e discernimento, i cui scrittori e giornalisti siano guidati da inquietudine, incompletezza e immaginazione. Questa, nel pensiero di Papa Francesco, è la Civiltà Cattolica, la rivista quindicinale della Compagnia di Gesù, che ha raggiunto il traguardo dei 4.000 quaderni. Incontrando tutta la comunità della rivista, guidata dal direttore padre Antonio Spadaro, il pontefice ha ricordato che i gesuiti sono chiamati ad uscire in missione nel mare aperto e non ad andare in pensione a custodire certezze. E se volete abitare ponti e frontiera, detto agli scrittori di Civiltà Cattolica, dovete avere una mente e un cuore inquieti per costruire una rivista che prenda consapevolezza delle ferite del mondo e individui terapie. Dovete avere un pensiero incompleto, cioè aperto e non chiuso e rigido, facendo conoscere ai cattolici che Dio ha il lavoro anche fuori dai confini della Chiesa, in ogni vera civiltà, col soffio del suo spirito. E infine avere immaginazione, perché così non vi rigidite. Il pensiero della Chiesa, ha concluso il Papa, deve recuperare genialità e capire sempre meglio come comprendere oggi l'uomo, capire che la vita non è un quadro in bianco e nero e invece prevalgono le sfumature, lo spazio del discernimento. Questo nella Chiesa e nel mondo è il tempo del discernimento. Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente che conosce la vita e umile della cociutaggine quotidiana, e specialmente dei poveri. La sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita, ma bisogna penetrare l'ambiguità, bisogna entrarci, come ha fatto il Signore Gesù, assumendo la nostra carne. Il pensiero rigido non è divino, perché Gesù ha assunto la nostra carne che non è rigida, se non nel momento della morte. Grazie.